Questa faccenda della partenza dei ragazzi non deve essere facile, la supereranno, la supereranno, eppure c'è una profonda convinzione nella sua voce, la convinzione di giocare le sue carte onestamente più in fondo, con tutti i rischi del caso. Dobbiamo farlo, Frank. Non possiamo più in un'area. Vivere, vivere davvero, sentire davvero, Frank, mi hai detto, me l'hai visto così, aspetta, aspetta, tutto questo è veramente molto... 1904! Ma sì! Era la primavera del 1904! Lo ricordo benissimo! Voglio dire, ammettiamo, come dici tu, che la tua vocazione se ne stia nascosta ad aspettarti da qualche parte, quello che mi chiedo è, ma... ma... ma non la potresti trovare anche qui? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! E quando avreste deciso? Tesoro, devo proprio dirtelo, questa faccenda degli Wheeler mi sembra alquanto azzardata. Un mocchietto di gente messa lì a farsi battute, a mangiare pop corn e a darsi di gomito. Tra cucina e salotto. Salotto e cucina. 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 Salotto e cucina al Butte.